La sentenza era per molti scritta. Andrea era già stato condannato all'ergastolo dai primi giorni, a quanto pare, della notizia. Appena entrata alla corte ho chiesto immediatamente al presidente di autorizzarmi a entrare nell'acquario insieme ad Andrea e lui non aveva capito. A quel punto lui cercava di capire guardando i visi della gente e poi ad un certo punto glielo ho detto Andrea sei stato assolto, sei libero e quindi ha sorriso, mi ha abbracciato, mi ha ringraziato perché la prima cosa ha detto grazie perché mi siete stati sempre vicino e poi ha detto questa è la sentenza giusta perché io sono innocente. Abbiamo avuto immediatamente la sensazione che la prova non ci fosse e quando il pubblico ministero ha terminato la sua discussione, che è stata una discussione in cui ha parlato soprattutto di sospetti, di congetture, di suggestioni, ci siamo chiesti, credo ognuno di noi, ognuno dei presenti, sì vabbè ma la prova l'ha detto qual è? Perché io non riuscivo neanche a capire dal punto di vista del pubblico ministero quale fosse secondo lui la prova della colpevolezza di Andrea. La prova dell'omicidio non c'è e sono stati utilizzati degli elementi per cercare di crearla la prova a carico, quando gli atti sono chiari, sono evidenti, diciamo c'è la prova dell'incidente. A noi è sembrato subito che il pubblico ministero non avesse la prova del fatto, cioè del fatto che Andrea avesse buttato di sotto Sestina e allora si sia dedicato soprattutto a convincerci del fatto che Andrea appunto fosse un individuo poco raccomandabile e comunque un soggetto pericoloso, dal quale sarebbe legittimo aspettarsi un fatto come quello contestato nell'imputazione. La sentenza diciamo che era per molti scritta, Andrea doveva, era già stato condannato all'ergastolo sin dai primi giorni a quanto pare della notizia, siccome si trattava di un ragazzo e di una giovanissima ragazza morta, doveva essere morta solo ed esclusivamente per mano di un omicida. Sembra che gli incidenti non possano accadere in questo momento storico.